Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Beh ma il punto sta lì credo, ho sentito la discussione prima e sono state mescolate un po' di cose differenti secondo me, un conto è avere a cuore la sicurezza dei pedoni che mi sembra fondamentale, un altro conto è pensare che i comuni i quali già pagano anni di tagli di varie forme di austerità, di abbandono da parte delle istituzioni nazionali debbano sostenersi vessando ulteriormente il cittadino prendendogli i soldi dalle tasche tramite le multe, cosa che accade regolarmente in varie zone d'Italia. Allora un conto è dire facciamo una misura che aiuti a evitare gli incidenti che sono drammatici e del resto è prevista non solo una riforma del codice della strada, è stato previsto grazie al cielo l'omicidio stradale e però poi queste norme dovrebbero funzionare, cioè se sono fatte per ridurre gli incidenti dovrebbero funzionare, invece abbiamo ad esempio il caso di Olbia che noi abbiamo riportato oggi dove dal 2020 senza ad esempio il limite dei 30 all'ora, quando viene introdotta la limitazione della velocità, cosa succede? Succede che aumentano gli incidenti, aumentano i morti, aumentano i feriti, quindi significa e non è l'unico caso. No questo sì, ma ti voglio chiedere perché voi infatti l'avete messo in prima pagina, leggo il vostro titolo, a 30 all'ora più incidenti e più feriti, il ministero di Salvini detta le regole è un freno ai limiti eccessivi, ora teniamo insieme pure le due cose, gli autovelox, il limite dei 30 all'ora del comune di Bologna e la battaglia di Salvini, ma perché Salvini l'ha trasformato in una questione politica? Sembra che il suo nemico oggi sia il sindaco di Bologna Lepore? Perché è una questione politica, per la precisione a Bologna è una questione ideologica, dopodiché Lepore l'aveva inserito nel programma, quindi chi l'ha votato evidentemente sapeva che aveva fatto la città a 30 all'ora, però è una questione politica questa, perché si pensa che introducendo, si pensa di cambiare lo stile di vita delle persone, il modo di vita delle persone, secondo me per disincentivarle a utilizzare l'auto, cosa che sta avvenendo nella larga parte delle città italiane, non solo tramite i 30 all'ora, ma attraverso l'introduzione di ZTL, di sanzioni, vediamo quello che fanno a Milano, quello che avevano in programma di fare a Roma, a un certo punto se uno vuole impedire ai cittadini di utilizzare l'automobile, che entro certi limiti per qualcuno è anche uno strumento di libertà, allora dovrebbe dirlo esplicitamente, non addurre tutta una serie di scuse che non servono, quanti agli autovelox servono a fare cassa, io ritengo che sia giusto che in alcune zone sulle provinciali e altrove si debba andare a una velocità contenuta, però sappiamo anche che di questo strumento per motivi di ristrettezza dei comuni si fa largo abuso, questo non significa da parte mia giustificare l'uomo col f***o.